Amici di Cellulare Magazine, oggi siamo qui con il nuovo NGM Forward 5.5, nuovo top di gamma dell'azienda italiana. Io sono Massimo Morandi e io sono Ivo Paparella. Per un unboxing, per curiosare subito, immediatamente, cosa c'è in questa scatola nera. Intanto vediamola esteticamente molto bella, molto curata anche nel design, la possiamo estrarre. E già qui nella parte frontale troviamo un po' una sorta di didascalia della scheda tecnica stilizzata, molto bella da vedere. Con un pochino di disegni, dei progetti del telefono che troviamo dentro il box. Andiamo subito a vedere. E apriamo. Allora, il protagonista è naturalmente il telefono, il Forward 5.5, che deve il suo nome allo spessore. 5.5 mm fanno, ad oggi, mentre registriamo, il telefono più sottile disponibile sul commercio. Lo smartphone più sottile al mondo. Più sottile al mondo. Lasciamo un istante da parte del telefono. Continuiamo con la descrizione della scatola, del contenuto della scatola e poi ci dedichiamo un istante al telefono. Abbiamo questa flip cover che naturalmente è preformata per il nostro nuovo NGM, che ha anche la caratteristica con questo taglio nella zona posteriore di poter lasciare il telefono in piedi in orizzontale. Confezione ricca, si diceva, infatti anche in questo secondo box, in questo secondo cartone, c'è qualcosa di interessante. Gli auricolari, che sono degli auricolari in ear di una qualità medio alta, proprio perché il telefono ha complessivamente una qualità, una manifattura alta. Alta, sicuramente. Gli auricolari, come diceva Massimo, sono in ear e hanno anche la particolarità di avere il cavo piatto, quindi che ha una maggiore resistenza ad ingarbugliarsi su se stesso, anche questa è una grande comodità. Un altro dettaglio, che proprio dettaglio non è, lo abbiamo trovato anche sulla scatola, sulle indicazioni delle caratteristiche, è la presenza del cavo adattatore OTG. Quindi possiamo agganciare nella parte superiore alla porta micro USB del nostro telefono e possiamo poi utilizzare delle periferiche con attacco USB. Possono essere delle banalissime chiavette, ma anche delle periferiche. Mi viene anche un mouse, si può attaccare senza problema. Lo troviamo anche questo in confezione della scatola. Naturalmente troviamo poi il cavetto di ricarica composito con il micro USB e poi tutta una manualistica, i certificati di garanzia al solito che troviamo nella scatola. Non ultima, ultima, la classica spilletta che serve per estrarre la SIM, perché il telefono è monoscocca, la SIM la potete vedere qui e si apre il cassettino con la spilletta. Allora, dedichiamoci a questo punto al protagonista di questo unboxing, poi tra qualche giorno prepareremo anche una recensione un pochino più articolata. Abbiamo già speso delle parole prima sullo spessore. Rivediamolo però questo spessore. Che è veramente, sembra incredibile, sembra finto da maneggiare, ma è veramente impressionante. Oltretutto ha delle caratteristiche costruttive veramente notevoli. Vetro davanti, vetro di dietro, sono due lastre di Gorilla Glass. Davvero un oggetto che appare prezioso a prescindere dal fatto che sia un smartphone. È veramente gradevolissimo da maneggiare. Lo scopriamo un po'. Vogliamo ripetere le misure perché è comunque una cosa importante. Abbiamo 145 mm di altezza, 70,2 di larghezza e ribadiamo per la terza volta 5,55 mm di spessore. Andando a una descrizione un po' più tradizionale... Qui partiamo, visto che siamo nella parte frontale, una fotocamera da 5 megapixel. Qui abbiamo invece i tasti che si accendono a scomparsa, quindi li potete vedere. Sì, sono esterni al display naturalmente, quindi non vanno a rubare anche una fila di pixel. Una cosa particolare Massimo, scusami, la fotocamera frontale è un angolo di campo di 95 gradi, quindi è stata ottimizzata per i selfie per evitare di deformare la faccia. Troppi visi, quando si fanno delle foto, comunque il braccio ha una certa lunghezza, quindi l'obiettivo tende ad essere sempre troppo vicino al viso. Parte posteriore. Fotocamera da 13 megapixel assistita da LED flash e qui trovate le griglie dello speaker del Viva Voce. Scusami, un'altra cosa sulla zona posteriore. Abbiamo un full HD per la ripresa video e anche la batteria che, come diceva Massimo prima, visto che il telefono è monoscoaca, integrata, quindi non è removibile. Tuttavia, nonostante i 5,55 mm di spessore, la batteria è da ben 2300 mAh, quindi è una delle curiosità che personalmente ho anche di questo telefono, vedere come si comporta anche in relazione all'autonomia, perché comunque con un telefono così piccolo non è semplicissimo anche ospitare una batteria di questa dimensione. Infatti oggi abbiamo voluto farvi subito l'unboxing come lo smartphone, è arrivato in redazione e nei prossimi giorni Ivan vi farà una vera e propria video recensione. Ripetiamo, Gorilla Glass davanti, Gorilla Glass nella parte posteriore. Parliamo un attimo anche dell'hardware, Massimo, in maniera più specifica. Un hardware di alto profilo, il processore è il Mediatek Octa Core 6592, che si può spingere fino a 1,7 GHz di clock, quindi un processore estremamente generoso nelle prestazioni, oltretutto assistito da 2 GB di RAM, quindi è un profilo notevole, vediamo come si comporterà, ma direi anche sulla scorta delle recenti esperienze abbiamo delle aspettative importanti. La memoria integrata da 16 GB è abbastanza ovvio che, visto il profilo del telefono, non ci stia l'espansione di memoria. I 16 GB sono comunque parecchi, sono già tanti così. Parte radio, giusto per finire la descrizione, la parte radio può contare sull'HSDPI 21 Mbps per quanto riguarda il download, e 5.76 per quanto riguarda l'upload. Concludiamo rapidamente con uno sguardo all'interfaccia di NGM, che è un'interfaccia che scorre tutto su un medesimo livello. Esatto. Nella fattispecie, vedremo poi con maggiore profondità nella prova, le varie funzioni di cui questo smartphone è dotato, vedremo anche la parte che è, secondo me, molto importante relativa alla navigazione proprietaria di NGM, che permette comunque di poter sempre navigare anche offline, quindi quando non si ha a disposizione una connessione internet, o la connessione internet costa troppo, come succede spesso all'estero. Quindi concludiamo con il prezzo e la data di uscita. Allora, la data di uscita dovrebbe essere veramente... Il prezzo è fissato in 399 euro, che lo colloca sicuramente in una fascia medio-alta, ma che mi pare anche abbastanza calibrata per le caratteristiche di questo apparecchio. Questo è un telefono di fascia alta e avete visto anche le qualità ardua sono di fascia alta. Quindi l'appuntamento è tra qualche giorno per il test, da questo momento cominceremo a usarlo in modo intensivo e Ivan vi farà poi una video-recensione completa con la prova dell'NGM Forward 5.5. Per il momento è tutto. Un saluto da tutta la redazione di Cellulari Magazine, da Massimo Morandi e da Ivan Copparella. Alla prossima!